3 mesi fa stavo tagliando il prato nel mio cortile poi arriva il postino con una lettera dell'esercito e ora sono qui e non ho idea di quale sarà la mia fine cos'è successo certe domande non hanno buone risposte boys scopri che c'è dentro quell'area ma che diavolo è si usano per gli esperimenti non è la nostra missione noi dobbiamo farlo questa cos'è il rai millenario richiede soldati millenari che cosa mi hai fatto che c'è dietro quelle mura cosa fate a quelle persone gli abbiamo dato uno scopo allora si non non Grazie a tutti.